Aumento dell'offerta formativa ed efficacia dei servizi. Si è discusso di questo durante il convegno la provincia in formazione, un importante evento dedicato agli strumenti per il lavoro e la formazione messi in campo da Palazzo Valentini per cittadini e imprese del territorio. 180 milioni di euro che dal 2008 la provincia di Roma ha investito per formare 40.000 persone e 1.200.000 euro quelli per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Abbiamo presentato una panoramica delle azioni realizzate e delle prossime iniziative, dice Massimiliano Smeriglio, assessore alle politiche del lavoro. È una giornata importante, abbiamo dato i nostri numeri, i soldi spesi in questi due anni, le persone coinvolte in processi di politiche attive del lavoro e in processi di formazione e di apprendistato. In più abbiamo dato i numeri di quello che faremo nei prossimi 7-8 mesi e abbiamo presentato Porta Futuro che è il progetto strategico su cui stiamo lavorando e che aprirà i battenti nel maggio del 2011.